mai prima d'ora il mondo è stato così consapevole di persone e di organizzazioni che cercano di inaugurare un governo mondiale in cui i miliardari stranieri controllano tutto ciò che facciamo abbiamo un messaggio per voi globalisti assetati di potere avete giocato troppo con le vostre mani vi vediamo conosciamo i vostri piani e indovinate cosa in quel fine settimana il club bildenberg si riunirà a lisbona in portogallo per il loro incontro annuale quindi ci incontriamo lì anche noi gli amanti della libertà di tutto il mondo si riuniranno nel proprio paese o si recherano a lisbona per inviare un messaggio chiaro siamo tanti siamo uniti e siamo pronti questo è diverso da qualsiasi altro evento sulla libertà che abbiamo mai avuto non è una protesta è uno spettacolo di coraggio e forza collettiva non chiediamo più di essere ascoltati non ci interessa quali siano i loro piani perché siamo pronti in soli tre anni miliardi di persone innocenti sono state messe agli arresti domiciliari privati dei loro diritti umani bombardati da ripetitiva propaganda della paura costretti a scegliere tra il lavoro e il consumo di un farmaco messi a tacere e vittime di violenza per aver fatto domande ora nel 2023 abbiamo a che fare con l'inflazione non possiamo permetterci l'aumento dei prezzi dell'energia la propaganda del cambiamento climatico la cultura del anulamento e la divisione la sorveglianza invadente e l'aumento dei tassi di mortalità puoi pensarla come vuoi ma abbiamo questo messaggio per te siamo tanti siamo uniti e siamo pronti quando è troppo è troppo non abbiamo più paura di voi e dei vostri piani malvaggi qualsiasi gruppo o persona può ospitare uno di questi eventi nella propria città può anche aiutarci a spargere la voce e controllare se c'è già un evento nella tua zona